Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Maria Grazia Cucinotta è una delle figure più amate e rispettate in Italia, apprezzata per la sua bellezza, fascino e professionalità. Sempre in ottima forma, la Cucinotta non manca mai di esibire la sua splendida figura, conquistando il pubblico con il suo carisma. Purtroppo nelle ultime ore è arrivata una notizia tragica, un lutto ha colpito la famiglia della famosa attrice. Secondo le informazioni riportate da un noto giornale, l'uomo stava viaggiando su una Honda SH-300 quando un cinghiale gli ha improvvisamente attraversato la strada. Tutto è avvenuto improvvisamente, infatti l'uomo non ha avuto nemmeno il tempo di reagire, non ci sono nessun tipo di segni di frenata sull'asfalto. Aveva 58 anni, ed è morto a soli 50 metri da casa sua. L'incidente è avvenuto a Roma, una città dove la presenza di cinghiali per le strade è un problema quotidiano. Il cugino del marito della famosa showgirl, è deceduto in questo drammatico incidente con lo scooter. La notizia ha profondamente colpito Maria Grazia Cucinotta e suo marito, lasciando un vuoto incolmabile nei loro cuori. Parliamo di Stefano Violati, e tutti noi facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.